per restare noi stessi nascimento perché non siamo capaci rinascimento perché noi sulle donne puntiamo rinascimento perché per guardare perché la candidata segretaria angelica villa una giovane io sono sempre stata legata al mondo dei giovani in quanto insegnante se non era per 02 pd prima dell'avvento di renzi io non sarei stato più iscritto al partito democratico nascimento per migliorare la partecipazione degli iscritti e anche dei simpatizzati rinascimento perché è ora di uscire dal medioevo rinascimento perché lavorare insieme i giovani con le persone di esperienza può essere un modo nuovo di cambiare la politica rinascimento perché crediamo nella nostra città e nel nostro sindaco rinascimento per parlare dei giovani allora rinascimento perché bisogna ricominciare da capo sicura che il circolo riprenderà ad essere vivace creativo innovativo e si farà politica ancora con entusiasmo e passione perché rinascimento perché questa è una speranza perché in un momento così difficile per questo paese bisogna credere nei giorni per non smettere mai di inventare di innovare e di sperimentare grazie a tutti